. Grande Fratello Vip, Luca e Soleil si sono già rivisti? Il gesto clamoroso Vin Zuiden. Gossip Grande Fratello Vip 2017, che è stato lincontro tra Luca e Soleil dopo la finale di ieri?. Come ha trascorso Luca Onestini queste prime ore fuori dalla casa del Cancelletto Grande Fratello Vip 2017? E questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan dell'ex tronista di Uomini e Donne che ieri sera si è giocato il tutto per tutto al duello finale contro Daniele Bossari, proclamato poi vincitore assoluto di questa seconda edizione. Luca, però, pur non essendo uno dei concorrenti favoriti per la vittoria finale, si è difeso alla grande distaccando di pochi punti percentuali il suo avversario ma grande amico nella vita privata. GF Vip News, Luca e Soleil si sono già rivisti dopo la finale? GF Vip News. Soleil sordè non ha mai avuto il coraggio, o la voglia, di presentarsi all'interno della casa del GF Vip per avere un confronto diretto con Luca, sostenendo che avrebbero risolto il problema nel momento in cui arebbe uscito dalla casa. Ebbene quel momento è finalmente arrivato anche se ormai c'è ben podo da chiarire, visto che Soleil ha letteralmente cambiato pagina della sua vita. Le gossip news di queste ore su GF Vip 2017, infatti, rivelano che Soleil si è fidanzata ufficialmente con Marco Cartasegna, l'altro tronista di Uomini e Donne che era presente in trasmissione da Maria De Filippi ai tempi in cui anche Luca Onestini era sul trono. Un vero e proprio colpo di scena shock che ha lasciato tutti i fan del GF Vip e quelli di Ued senza parole. Colpo di scena da parte di Soleil. Luca Onestini è stato messo al corrente di questa situazione, durante la diretta di una delle puntate del serale del GF Vip e in quell'occasione venne anche attaccato duramente da Cecilia Rodriguez, la quale sosteneva che Luca e Soleil si fossero messi d'accordo su questa messa in scena. Ma torniamo all'attualità dei fatti tra Luca e Soleil, i due si sono rivisti dopo la finale di ieri sera del reality show? Le gossip news rivelano che al momento i due ex fidanzati non hanno ancora avuto la possibilità di rincontrarsi dopo l'avventura del GF Vip. Intanto, però, ieri sera Soleil ha spiazzato tutti quando a poche ore dalla finalissima ha ammesso di fare il tifo per Luca, sperando che potesse essere lui il vincitore e augurandogli il meglio per il suo futuro.